L'Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ha nominato nel corso dell'Assemblea di ieri mattina Bruno Piraccini a Presidente dell'Assemblea e indicandolo come futuro Presidente della Fondazione. Sarà compito del Consiglio Generale della Fondazione a procedere nel corso della sua prossima riunione di martedì 26 aprile alla nomina del Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione. Nel corso dell'Assemblea è stato anche approvato il bilancio della Fondazione e si è proceduto all'elezione di cinque nuovi soci. L'Assemblea è stato l'ultimo atto della presidenza uscente di Davide Trevisani che lascia dopo 11 anni alla guida della Fondazione Cesenate. L'Assemblea al termine del suo intervento lo ha salutato con un lungo applauso di apprezzamento per l'attività svolta e gli obiettivi raggiunti. Parole di ringraziamento sono arrivate per Trevisani anche dall'intervento del neopresidente Bruno Piraccini che ha ribadito alla platea dei soci come nell'immediato futuro sia necessario gestire oltre al completamento dei progetti già in corso la diversificazione delle attività patrimoniali della Fondazione. Compito quest'ultimo che dovrà essere gestito, ha ribadito Piraccini, operando in stretta sintonia con la banca. Sottolineato infatti dal neopresidente l'attaccamento alla banca Cassa di Risparmio di Ciosena il cui ruolo, parimenti a quello della Fondazione, è strategico per assicurare al territorio il massimo supporto possibile, specialmente in questi momenti di perdurante crisi.